Vetevi sulla cucina di Raffi! Eccola qua, la nostra crepe, l'acqua. Ciao a tutti amici e bentornati come sempre con la Raffi alla grande. Ragazzi oggi crepe all'acqua, veloci veloci, senza uova, senza burro, senza latte, senza niente. Veloci, morbide, buone. Poi ovviamente internamente ci potete mettere quello che più desiderate. Però le nostre crepe saranno leggerissime. Allora, incominciamo subito con 220 grammi di farina di riso, un filo d'olio, un pizzichino di sale e poi ci andremo a mettere 520 grammi di acqua. Io sto facendo tutto in un robottino, eh, in un mixer. Ebbene, abbiamo ottenuto questa pastella, adesso ci spostiamo i fornelli. Ebbene ragazzi, padella sui fornelli, una spruzzatina d'olio. Adesso andiamo a togliere l'eccesso dell'olio, la facciamo riscaldare per bene. Una volta fatto questo, prendiamo due mestoli nel nostro composto che abbiamo fatto. Andiamo a inserire dentro. Uno e due. Ci diamo una giratina. E adesso aspettiamo che il tutto si solidifichi. Ecco, la crosticina sta incominciando a fare, guardate. Allora, guardate, il tutto si sta staccando dalle pareti. Guardate un po'. Adesso la prendiamo e la giriamo dall'altra parte. Uno, due e tre. Et voilà. Che ne dica, raga? Ebbene ragazzi, le nostre creppe all'acqua sono pronte. Guardate un po' come sono morbide. Guardate, li potete fare come volete. Li potete fare sia salate che dolci. In questo caso io le andrò a farcire con la Nutella. Eccola qua. La nostra creppe. Mia figlia è golosa proprio perché me l'ha richieste proprio lei. E chiudiamola grande. Beh, che ne dite di questa buonissima creppe all'acqua? Detto questo, non mi rimane che salutarvi. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!